Ciao a tutti e bentrovati in 101 secondi Viola di oggi La Fiorentina continua a pensare al futuro ma soprattutto a quei giocatori che potrebbero essere ceduti su tutti c'è Ilicic, un calciatore che difficilmente rimarrà la Fiorentina un calciatore che ha mercato perché comunque ha messo in piedi una ottima stagione è discontinuo, questo può essere il suo limite però ha grandi apprezzamenti anche in Europa e quindi Ilicic ci sarà sacrificato poi se ne andranno sia Roncaglia che Tomovic la Fiorentina ripartirà da alcune cessioni importanti e non è assolutamente detto, anzi la notizia che vediamo è che molto probabilmente non sarà riscattato Teio che costa tanto, 8 milioni di euro sul quale la Fiorentina ha comunque qualche riserva molto dipenderà in questo senso dalla permanenza o meno di Paolo Sosa perché l'allenatore che allenerà la Fiorentina al prossimo anno dovrà dire assolutamente la sua però Teio difficilmente sarà riscattato per una Fiorentina che cercherà di fare un gruzzoletto per intervenire finalmente sul difensore centrale e su un paio di esterni difensivi importanti poi per quanto riguarda gli altri se ne torneranno in tanti a casa chiaramente Benaluana, chiaramente Tino Costa, chiaramente tutti quei calciatori in più che hanno fatto male, malissimo alla Fiorentina anche a centrocampo i Viola avranno bisogno di rinforzi perché ci sarà un assalto inevitabile a Vessino la Fiorentina cercherà di trattenerlo a Firenze ma di fronte, davanti ad un'offerta davvero importante anche Vessino potrebbe essere sacrificato per fare mercato a domani con i 101 secondi Viola un saluto da Marco Dell'Olio